Un cero a terra ad aprire la via silenziosa verso il portone dietro il quale tra sabato e domenica si è consumata la tragedia a pochi passi dalla piazza centrale di Agugliano. Il cartello che sigilla alla porta, sopra una girandola da bambini, quella dei tempi felici. Tutto è cambiato in meno di un'ora sabato sera quando Dimitru Bordea, 33 anni, romeno conosciuto da tutti come Daniele in paese, si è tolto la vita, il culmine della disperazione, piantandosi un coltello nel collo. Sembrava una roccia, invece è crollato, dice chi lo conosceva bene. Logorato dall'impossibilità di mantenere la sua famiglia, era senza lavoro da tre anni, si era adattato a lavoretti di ogni tipo. Quando la moglie aveva trovato lavoro, aveva cresciuto lui e le loro bambine di 5 e 2 anni, c'erano stati tempi felici. Poi quando anche lei aveva perso il lavoro, il declino. Daniele, che era stato sempre gentile, affettuoso con la sua famiglia, raccontano in paese, aveva iniziato a chiudersi in se stesso, a bere per dolore. Sabato sera aveva litigato con la moglie, era ubriaco. Le bambine avevano pianto, si erano spaventate. Lui avrebbe detto alla moglie, portale via, mi ammazzo. La mamma era andata con le piccole dalla cognata. Al ritorno la musica alta, la scena agghiacciante in cucina. Lei che tenta di salvarlo, togliendo la lama dal collo, lui esala l'ultimo respiro davanti ai suoi occhi, lasciandola in un lago di sangue. Il sindaco di Agugliano smentisce che la famiglia abbia chiesto aiuti all'amministrazione. Sembra che non si fossero rivolti neanche alla Caritas. Ora un assistente sociale del comune si sta interessando della donna e delle bambine, mentre Don Michele della chiesa parrocchiale ha avviato una raccolta di offerte per il funerale e il trasferimento della salma in Romania.